Ciao a tutti, lei Demi e lei Holly e benvenuti in questo nuovo video Ieri sera siamo andate a Oreo e come ogni singola volta che abbiamo a Oreo abbiamo preso qualcosa da Tiger Noi quando andiamo al Tiger di solito prendiamo o regali per i nostri amici e amici o magari anche dei gadget anche per noi Tutti di queste cose che abbiamo comprato da Tiger sono davvero molto strane La più strana è questa matitona Allora, proviamo un po' Il secondo gioco che abbiamo comprato da Tiger è questo qui Praticamente si mette in testa questo cosino qui Mettetolo in testa Poi qua abbiamo tre palline morbidissime I 100 davanti Sembra quelli che giocano a palla mia La bella lavanderina che lava i pazzoretti Te lo leghi che è proprio con lo spazio Pippi calze lunghe sembra vero Demi! Faccio male! Allora ho preso le palline e ora proviamo a tirare in testa Levi Però rimanete sulla fine del video perché proveremo A compiere in una miseria in un postivo Allora andando proviamo qui Vai Oh 100 Oh 100 Hai fatto Quanto fa 100? Quanto fa 100? 100 più 50? 100 più 50? 100 più 100 Oh cavolo Impossibile ma prima di uscire iscrivetevi al canale cliccando questo Per attivare le notifiche e alla fine se vi è piaciuto il video vedete un bel like ed ora usciamo Allora ragazzi stavamo cercando il nostro gattino Rocky ma non l'abbiamo trovato quindi abbiamo optato per il nostro tagliarino Mario Allora dovremo provare a mettere questo cosino qua in testa Io non so come fare Dai vai a prendere Margot Allora proviamo a mettere questa cosa Intanto vabbè lasciatemi la palla in bocca 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 Nooo Riproviamo Margot Allora Margot Allora Margot Assettate Oh mamma mia Ferma Ferma Fermo Margot No No Ok mettiamolo Va meglio Grammati Relzi Rekor Stai Scherzo Passata Passata Ferma Prima Stai Scherzo O Si può morire Proprio è zero e io sono a 50 l'hai coperta 100 sono a 100 ferma margo io ho fatto 100 ragazzi hai fatto 50 allora proviamo ho fatto 200 ho fatto 200 raga io faccio 200 comunque ragazzi non ci date più la pallina perché prego è impossibile bisogna un bacino nasce la pallina ho un'idea ho un'idea vieni margo prendimela 50 oh no cavolo mi stiamo mangiando la mano dai dai ho lasciato la pallina sotto ma no no ho ricordo la pallina ragazzi 200 si ti ho visto allora ragazzi continuiamo con 2 oh ho preso cosa? 50 no questo cos'è? 100 ho preso un 100 ti ho preso un 100 100 sono 200 ma te li fai così addio 200 200 oh sono 300 adesso riproviamo comunque ragazzi Oli ha fatto 0 punti esattamente ne ho fatti 500 250 perchè il primo round il round è la 6 per ecco perchè le prime volte avevo fatto 250 quindi guarda poi nel secondo round avevo fatto 101 avevo fatto 150 quindi 250 no 450 no avevo fatto il primo bugiardo come ho fatto comunque ho vinto io ha 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 ok ragazzi il nostro video si conclude qui speriamo che vi sia piaciuto che vi siete divertiti insieme a noi e ciao ragazzi